I Medici a gestire la palla, Giovanchelli che prova ad avanzare, messo giù, rorato a Newton, Newton un incrocio con Rodwell che va a scaricare su Biffi, la prima meta dell'incontro è Biffi e il mediano d'apertura gallese nonostante non colpisca benissimo riesce comunque a far passare il pallone sotto la traversa per il 7 a 0. Reggio Emilia all'introduzione, Amenta dalla parte chiusa, un buon pallone ottimo per Costella che va a segnare in bandierina, Costella l'autore della meta e Gennari che la trasforma. Ancora una ripartenza, ancora un pallone per orato che va dalla parte chiusa con Cerioni, da Cerioni a Grif e Grif trova un'autostrada davanti a sé e al 29esimo va a segnare la seconda meta per la Toscana Aeroporti. Il calcio ma resta largo e quindi il punteggio rimane sul 12 a 7 per la Toscana Aeroporti. Parte la rincorsa di Gennari, il pallone si alza bene, vediamo se arriva, si fa fra i pali per il 12 a 10. Sta per uscire la palla Fusco però la lascia lì e ancora una ripartenza, ora siamo veramente a un metro dalla linea di meta. Tutto buono, si gioca ancora, si va a largo per Gualafe. Vediamo, forse ha toccato la bandierina, si consultano. Vediamo da qui, non si può giudicare, è meta, è meta del numero 15 appena entrato Gualafe. E' veramente sulla linea laterale sinistra questo calcio, vediamo. Il pallone si alza ma non c'entra i pali e quindi il punteggio rimane sul 15 a 12 per il Reggio Emilia. De Newton parte con tre passi di rincorsa, il pallone questa volta si alza bene e va per i pali per il 15 pari. Avanza la rolling mall Medicia, sembra ben organizzata, sta guadagnando terreno, ora il Reggio Emilia forse riesce a fermare la prima avanzata, ancora, ancora in avanzamento. Il pacchetto di casa avanza, avanza ancora, la spinta dei Medicei. Vanno a un passo dalla meta, entra il pacchetto, vediamo se riescono a schiacciare. Sì, viene assegnata la meta, 20 metri di spinta del pacchetto Mediceo che travolge il pacchetto del Valoregbi. Ed ecco la trasformazione di Newton, il pallone va fra i pali e ancora Menta che riparte dalla parte chiusa, un varco per Mirko Amenta che fa tutto da solo e va a segnare. E questo giocatore è veramente incontenibile. E il pallone va fra i pali per il 25 a 22.